Questa mattina il Tava Bike parteciperà a una pedalata per beneficenza per remeggersi organizzata dagli amici del Gaga Bike. Tutto questo a River Garo. Prima uscita ufficiale con le nuove maglie la nuova divisa. Oggi gruppone anche Giorgio oggi domani piove Pronti per la pedalata di remeggersi Gaga Bike. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.